Doveva essere un post ironico, ma ha sollevato un bel polverone. La conduttrice e il giornalista Milena Gabanelli, ha postato una foto di quello che aveva inconsapevolmente scambiato per un antipasto, cioè una piccola quantità di merluzzo, ma che in realtà costituiva la musbusk, ovvero una degustazione che precede l'antipasto. La giornalista, ha postato la foto ironizzando. Non so cosa ho mangiato perché non sono riuscita a sentire il sapore. Ma questi chef? Comunque il ristorante è piuttosto caro, ed i tavoli tutti occupati. Significa che le persone gradiscono questa lieve forma di masochismo. Volevo solo farmi due risate, per una volta. Da questo post, ne è nato un vero e proprio caso sul web, che è finito per dividere gli utenti. Se, da un lato, c'è chi sostiene che quello degli chef stellati, sia un vero e proprio blef, e che nei loro ristoranti si mangi poco e si spenda troppo, in molti hanno criticato il post di Milena Gabanelli. Un po' perché pubblicato su una pagina aziendale e non privata, un po' perché gli estimatori della cucina creativa non hanno gradito quello che può sembrare un attacco ad un intero ambito professionale. Insomma, il suo post ha scatenato un vero e proprio dibattito sulla cucina degli chef stellati. Per porre fine alla questione, la Gabanelli è intervenuta con un altro commento, in cui ha spiegato che. Non volevo andare a parare da nessuna parte, ma solo farmi due risate, per una volta tanto. Grazie a tutti.